Allora siamo nell'antica pizzeria da Michele nella sede nuovissima che hanno inaugurato qui a Roma, riconoscete forse il forno tutto di rame, riconoscete i ragazzi fantastici che lavorano adesso e che stanno facendo la fase dello staglio e formatura dei panielli, quindi adesso andiamo a dare un po' di fastidio a loro e chiediamo come stanno le cose. Allora, staglio e mozzarella, quindi, vero? Ma quanto vi fanno i panieri? 300, 305, ma sì, sì. Questo è l'impasto che ha quanto? Sì, è un po' di temperatura piena, ma io l'avevo pensato, perciò che lo dico. È classico. Sì, 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 per il momento è un po' di bella, io penso che per la prossima, a mezzogiorno. Sì, 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 per il momento è un po'. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quante malline preparate per ogni giorno? Mille pizzi al giorno. Al momento stiamo preparando mille pizzi al giorno. E siamo solo di inizi. Solo di inizi. ... ... Voglio far vedere il fuoco che ho messo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Facciamo due puntate. Invece devi farne una sola con tutte e due le cose. Una e poi ne facciamo un'altra. Capito? È più simpatica come faccenda, no? Dobbiamo spazzarti ragazzi perché dopo li mischi con gli altri. Invece prima vanno avanti questi e poi c'è quell'altro. E' più simpatica come faccenda. Allora, allora, non sta registrando.